Cari amici del Volto del Ring, benvenuti in questo nuovissimo episodio della Ringo Volto. La Road to Perfect Storm è sempre più incandescente, il pay per view andrà in onda fra due episodi e noi ci colleghiamo subito con l'ufficio del presidente da Ringo Volto, ovvero il Volto del Ring, perché avrà qualcosa di importante da comunicarci e in più dovrà delle risposte a Trevor Fisher, dato che il membro della confraternita nello scorso episodio gli ha lanciato una sfida molto interessante. Lui e Sam Day vogliono assolutamente avere un match definitivo e risolutivo contro gli agenti del presidente a Perfect Storm. Trevor Fisher Nello scorso episodio mi hai lanciato una proposta. Fra due episodi a Perfect Storm tu e Sam Day volete affrontare nuovamente in un tag team match i miei agenti di sicurezza per chiudere definitivamente la vostra disputa con loro. Va bene, la mia risposta è sì, soprattutto dopo la provocazione che mi avete lanciato nello scorso episodio quando li avete attaccati brutalmente nel backstage. Evidentemente voi non ne avete ancora abbastanza. Voi della confraternita volete essere soppressi nel peggiore dei modi. Perciò, sì, fra due episodi a Perfect Storm affronterete i miei agenti di sicurezza. In più, in questo episodio e anche nel prossimo avremo dei piccoli antipasti di questo scontro. Eh sì, perché stasera Trevor dovrai affrontare l'agente numero due. E nel prossimo episodio, invece, l'agente numero uno affronterà il tuo alleato Sam Day. Così i miei agenti inserranno già a rifilarvi una bella passata di botte in attesa di quella definitiva di Perfect Storm. E adesso passiamo invece al vostro leader, ovvero l'oracolo Lars Payne, che mi ha battuto e umiliato in meno di un minuto a Supreme Judgment. Caro Lars Payne, hai visto cosa ti ha fatto su voi a Supreme Judgment? Hai visto il passaggio che ti ha rifilato? E hai visto poi il suo match ufficiale di ritorno nello scorso episodio? Hai visto come ha asfaltato il tuo record, sconfiggendo George Nelson in meno di mezzo minuto? Hai visto cosa è in grado di fare il mio pupillo? Suboi è una creatura sacra, è un mostro leggendario. Lui può sconfiggere chiunque. Ed è lui che porrà fine alla tua confraternita. Sì, perché fra due episodi a Perfect Storm lui ti annienterà in un no holes barred match e te la farà pagare per tutto quanto. Così finalmente tu e la tua confraternita di conservatori non avrete più niente da fare. Non avrete più nulla di cui venirmi a rompere le scatole. Voi andate tanto a predicare che volete combattere contro le ingiustizie e contro chi fa un uso scorretto di questa disciplina e chi la infanga. Ma a me non me ne frega niente, hai capito? A Perfect Storm i miei agenti annienteranno i tuoi alleati Trevor Fisher e Sam Day E in più Suboi porrà fine a te, che sei il capo di quella confraternita. E dopo Perfect Storm nessuno avrà più niente da dire, hai capito? La confraternita passerà alla storia come un gruppo di pazzi esaltati che è stato soppresso dai miei uomini di fiducia, ovvero gli agenti e dal mio pupillo Suboi. In più, crollar spegni, io non capisco perché tu non ti fai mai vedere. Tu ti fai vedere solo nei pay per view. Ma cos'è? Sei un codardo? Hai paura a farti vedere qua negli episodi? Perché non appari mai? Sei un codardo? E mi sa proprio di sì. Comunque, tanto sono sicuro che tu in questo momento mi stai ascoltando e mi stai guardando, ovunque tu sia. Perciò, osserva bene adesso, perché sta per iniziare un match molto interessante, un handicap match, dove Suboi combatterà contro Wade Max, ovvero dei Boom Squad, e vedrai cosa sarà capace di fare il mio pupillo da solo contro due avversari. Quindi, questo sarà un altro antipasto di quello che vedrai e subirai a Perfect Storm. Preparati, caro Lars Payne, perché tu e la tua confraternita finirete sbriciolati. La vostra fine sta arrivando. E dunque, amici, dopo quanto dichiarato poco fa dal volto del ring, direi di partire subito col primo match della serata. Two on one, handicap match. Da una parte, il pupillo del presidente, Suboi. Dall'altra, Wade Max, ovvero The Boom Squad. Eccoci qua, nuovo in diretta, amici. Il seguente incontro è un two on one handicap match. E' il primo atleta a fare il suo ingresso. E' il pupillo del presidente della ringovolto. Lui è Suboi. ... Grazie a tutti. I suoi avversari in rappresentanza della Boom Squad, loro sono Wade e Max. E dunque ci siamo, si può partire. Inizieranno Suboi e Max. L'arbitro inizia il match. Oh mio Dio, che braccio teso da parte di Suboi. Devastante. No, 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 ragazzi, no, non ci credo. C'è già la sua finisher. Poi dopo va da Wade. Mio Dio, lo scarica direttamente dentro il quadrato. Adesso Suboi lo rimette in piedi. No, 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 no. Oh mio Dio, c'è la finisher anche su Wade. Poi dopo il gigante sardo torna da Max. No, 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 no. Di nuovo. Di nuovo la sua finisher. Oh mio Dio, è finita. Uno, due e tre. Signori, Suboi, in meno di un minuto, ha disintegrato due avversari. Oh mio Dio, non ci credo. La furia del gigante sardo prosegue e stavolta si è abbattuta su ben due avversari. Silurati in meno di un minuto. Perciò l'oracolo è avvisato. A Pepextorm verrà spriciolato e raso al suono. Oh mio Dio ragazzi, dobbiamo collegarci subito con il backstage perché pare che ci sia una rissa brutale in corso. Colleghiamoci, forza. Oh mio Dio, ma qua ci sono G. Reynolds e Dana che se le stanno dando di santa ragione. Oh mio Dio, ma questi due evidentemente non hanno voglia di aspettare fino a Perfect Storm per scontrarsi. Mamma mia ragazzi, guardate quanti botte risposta si stanno rifilando questi due atleti colossali. Mamma mia, adesso G. Reynolds colpisce Dana, poi dopo prende la sedia. No signori, il campione mondiale ti la fa cadere, poi dopo spezza schiena. L'idolo del pubblico adesso è scatenato, prende lui in mano la sedia ora. E attenzione, mio Dio, la sua furia si abbatte su G. Reynolds che per adesso si rialza. E adesso lo colpisce. Mamma mia ragazzi, adesso Reynolds esegue questo belly to belly suplex ai danni del campione. Ancora il leader del public enemy. Mio Dio continua a colpire Dana ripetutamente. Mamma mia ragazzi, rissa. Senza quartiere. Adesso, guardate, Reynolds prende Dana. Oh mio Dio, lo fa sbattere sulla parete. Poi dopo... No, no, oh mio Dio, Samoan drop di Dana. Samoan drop dell'idolo del pubblico che adesso ribalta la situazione. Poi dopo inizia a colpire G. Reynolds. Poi dopo lo prende. Oh mio Dio, lo scalaventa sulla parete. Poi dopo cosa fa? No, 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 no. Oh mio Dio, German suplex. Mamma mia, Dana scatenatissimo adesso. Rimette in piedi G. Reynolds. Poi dopo prova a sollevarlo. No signori, no signori. No, no, non ci credo. Non ci credo. La G5, G5. Oh mio Dio, G5. G5, G5. Ma G. Reynolds non è ancora abbastanza. Ancora, no, no, non ci credo. Ancora. No, no, ancora G5. Oh mio Dio. Dana è KO. Dana è KO. Mio Dio, nessuno è mai riuscito a uscire dallo schienamento dopo una G5. E dunque, se vedremo di nuovo questa scena, Perfect Storm, non potremmo far altro che pregare per il campione mondiale affinché si rialzi. Perché forse davvero il regno di Dana è giunto al termine. Dana probabilmente potrebbe non riuscire a sopravvivere alla G5. Oh mio Dio. E adesso amici passiamo al prossimo incontro dove avremo in azione Texas Andrew e Nathan Robinson. Nello scorso episodio, se vi ricordate, Texas Andrew ha fatto suonare la sua musica durante il match di Nathan Robinson che è stato distratto e quindi ha perso contro Rai Smoota. E dunque adesso avremo un regolamento di conti sul quadrato. Uno contro uno. Eccoci qua il nuovo in diretta amici, il seguente incontro è un uno contro uno. E il primo atleta a fare il suo ingresso è Texas Andrew. Dunque amici ancora non conosciamo il motivo per il quale Texas Andrew ha provocato la sconfitta nello scorso episodio di Nathan Robinson. Però sta di fatto che è stata sancita una contesa uno contro uno fra di loro, proprio per ora. Dunque non ci resta che scoprire come andrà a finire questo scontro fra Colossi. E soprattutto chissà se Texas Andrew ci fornirà mai una spiegazione su questa inclusione dello scorso episodio. Al momento la cosa è completamente avvolta nel mistero più totale. Il suo avversario è Nathan... Robinson... 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 ... 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 Cassian Legsweep, devastante, Nathan Robinson in questo momento, in difficoltà Texas Andrew, allora ne approfitta e continua a stompizzarlo, ancora una doppia chop, e adesso però no, no signori, Nathan Robinson contraattacca, adesso poi prende Andrew, attenzione, mamma mia signori, side wolf slam, porca miseria, ancora Nathan, mette in piedi Andrew, poi dopo lo prende, attenzione lo scaraventa all'angolo, rincorsa, mamma mia, mio Dio, porca miseria, che impatto devastante, ancora Nathan, attenzione, no signori, Texas Andrew contraattacca, poi dopo, sono in groppa, è qua, mio Dio, running power slam, running power slam, ancora Andrew, mette in piedi, Nathan Robinson è qua, signori, mio Dio, c'è la manovra risolutiva di Texas Andrew. Uno, due, e tre, Texas Andrew sconfigge, Nathan Robinson, al momento però non abbiamo ancora capito perché Texas Andrew abbia preso di mira a Nathan, perché lo ha fatto perdere nello scorso episodio, perché ancora Texas Andrew non ce l'ha voluto spiegare, una cosa è certa, noi siamo qui in attesa di chiarimenti e di delucidazioni, staremo a vedere come si evolverà la vicenda, perché qua secondo me c'è ancora qualcosa da scoprire, c'è ancora qualcosa sotto, intanto però Texas Andrew se la gode, e risulta, che vittoria, grande vittoria per lui oggi. E adesso amici ci colleghiamo con il backstage perché abbiamo in collegamento il campione hardcore, nonché il leader dei Predators, Mac, che avrà delle dichiarazioni molto importanti da fare, e vi ricordo che Mac dovrà difendere fra due episodi a Perfect Storm il suo titolo hardcore dall'assalto di The Seventeen John Murphy. The Seventeen John Murphy Caspita, tu si che ci sei fare, sei arrivato da poche settimane in rincovolto, però ho visto che stai riscuotendo davvero tanto successo, sia per il fatto che il pubblico è dalla tua parte e ti sta sempre sostenendo, sia per il fatto che tu stai ottenendo tante vittorie e soprattutto stai disputando dei match davvero molto belli e molto convincenti. Sì, addirittura sei riuscito ad ottenere la title shot per sfidarmi per il mio titolo hardcore fra due episodi a Perfect Storm. Complimenti davvero, bravo ragazzo, bravo, bravo davvero. Ma si dà il caso che tu sia davanti al leader dei Predators, al campione hardcore, Mac, io per arrivare a vincere questo titolo ho sputato sangue, mi hai capito? Io ho sconfitto il campione hardcore più glorioso e più forte che questa federazione avesse mai visto, ovvero JB04. Nello scorso episodio, quando tu hai ottenuto la title shot, io mi sono intromesso al termine del tuo incontro per farti capire chi comanda e tu, con grande coraggio e grande grinta, sei addirittura riuscito ad umiliarmi, a mettermi capo al centro del ring. Tu hai davvero un grosso talento, tu sei davvero molto bravo, sei davvero tosto, sai quello che vuoi e riesci a ribaltare le situazioni in qualunque momento. E in quell'occasione lì tu sei riuscito a tirarti fuori dai guai mettendomi KO. E questo è veramente un gesto pazzesco. Te ne do atto, complimenti. Però devi sapere una cosa, che a Perfect Storm, quando noi due ci affronteremo al centro di questo quadrato, io non avrò pietà di te. Hai capito? Tu non mi puoi battere in uno contro uno. Io non sono un semplice atleta, io sono un vero campione. Hai capito? Tu, per me, sei solo uno sfidante di transizione. Tu sei solo un novellino che è arrivato qui da poco e che pensa di scalzarmi dal mio posto e di togliermi la cintura. Ma tu ti sbagli di grosso. Io ti asfalterò. Mi hai capito? Questo titolo rimarrà nelle mie mani e tu rappresenterai solo una transizione all'interno del mio glorioso regno che proseguirà molto, molto a lungo nel tempo. E adesso, amici, è tempo di passare al prossimo incontro su cosissimo antipasto di Perfect Storm, agente 2 contro Trevor Fisher. Mentre settimana prossima avremo l'agente 1 contro Sam Day. Tutto questo per volontà del volto del ring. E vi ricordo che a Perfect Storm i due agenti di sicurezza del presidente dovranno affrontare i due membri della confraternita dei conservatori Trevor Fisher e Sam Day in un tag team match per regolare i conti una volta per tutte. Eccoci qua, nuovo in diretta, amici, il seguente incontro è un 1 contro 1 e il primo atleta a fare il suo ingresso è accompagnato dall'agente 1. Lui è agente 2. Ed eccoli qua gli agenti di sicurezza personali del volto del ring che si presentano sullo stage sul coso antipasto di Perfect Storm in arrivo. Ed eccoli qua gli agenti di sicurezza personali del volto del ring che si presentano sull'agente. Il suo avversario è accompagnato da Sam Day in rappresentanza della confraternita dei conservatori. Lui è Trevor Fisher Come on! Come on, let's go! E dunque ci siamo, si può partire agente 2 contro Trevor Fisher. Ci siamo, l'arbitro inizia al match. Mio Dio, l'agente 2 si avventa subito come una furia su Trevor Fisher che per adesso passa al contraattacco. Attenzione, però adesso ricontrattacca l'agente del volto del ring che continua a colpire il membro della confraternita senza sosta. Mamma mia, no, ricontrattacca Fisher che continua a colpire l'agente. No, signori, ricontrattacca l'agente. Qua sembra di essere in una risa da strada. Guardate i due come se stanno dando di santa ragione. Adesso alla meglio l'agente con questo braccio teso. Adesso poi prende Trevor Fisher, lo scaraventa all'angolo, rincorsa dell'agente. Oh mio Dio, che botta devastante. Ancora l'agente con cui si stompa i danni di Trevor Fisher. Ancora l'agente 2. Prende Trevor. Harry Shweep sulle corde e poi dopo... Mamma mia, che spinebuster devastante. E adesso c'entra in attivo di schienamento. Uno. No, niente da fare. Colpo di vedi da parte di Fisher. Ancora l'agente non si ferma. Un piano in feride, ma qui, signori, c'è l'agente di Trevor Fisher che adesso lo prende. Attenzione, lo vuole sollevare. Mio Dio, ragazzi, che vertical suplex senza precedenti. E adesso è Fisher che prova lo schienamento. No, niente da fare. L'agente si rialza tranquillamente. Allora Fisher ancora continua in ferie, lo colpisce sulla testa. No, signori, contraattacca l'agente che adesso poi... Cosa fa? Prende figo. Oh mio Dio. Rassian Dexit in versione superpotenziata. E adesso l'agente si avventa su Trevor Fisher. Oh mio Dio, lo colpisce ripetutamente in questi puni sulla faccia. E ancora l'agente di nuovo. Mamma mia. Il volto del ring deve averli ordinato di in feride senza pietà. Mamma mia, infatti l'agente ancora. Ora e ancora continua a menare il membro della confraternita. Adesso decide di metterlo in piedi. E qua, signori, vuoi già chiudere. No, non ci credo. C'è la sua finisher. C'è la sua powerbomb. Mamma mia. Uno, due. E no! No! Trevor Fisher si rialza. Mamma mia, signori. Allora l'agente decide di rimetterlo in piedi. Uh, ma qua, signori, c'è Trevor Fisher che dice No, bello. Tu qua devi pigliarti una bella dose di mazzate. E infatti Trevor Fisher, guardate, continua ad imperire. Boris le maedani della gente che però, guardatelo codardamente, si rifugia nella zona dell'epron. Però Fisher lo agguanta. No, signori. No. Non ci credo l'agente. Cosa fa? Cosa fa schienamento? Uno, due. No! Trevor Fisher si rialza. Mio Dio, adesso l'agente lo colpisce con caccione dritto sulla schiena. Ancora l'agente due. No, signori. Qua seconda attacco di Trevor Fisher che ancora continua a colpirlo. L'agente è in ginocchio. Fisher lo rimette in piedi. Body slam. Mamma mia, ancora l'agente. Che codardo. Si rifugia ancora nel seno del parato. E qua Fisher. Mio Dio, oh mio Dio, si lancia dall'epron. Mamma mia, mamma mia. Che tuffo. Ancora Fisher. Prende l'agente. Oh mio Dio, lo scaraventa via. Come se fosse un sacco da spazzatura. Ancora Fisher. Mette in piedi l'agente. No, signori. Qua è l'agente che contraattacca e scaraventa sulla barricata. Fisher, ma qua Fisher. Contraattacca. E adesso poi prende l'agente. Oh mio Dio, che diritti all'esterno del parato. Adesso il membro della confraternita torna sul quadrato. Poi dopo ne riesce. E qua si prosegue a oltranza all'esterno del parato. Adesso Fisher mette in piedi l'agente. Poi dopo cosa fa? Lo mette sulla barricata. No, no ragazzi. Cosa fa Fisher? Oh mio Dio. Oh mio Dio. Mamma mia ragazzi. Sfonda la barricata. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Mamma mia. Cazzi. Trevor Fisher ha sfondato tutto. Oh mio Dio. Oh mio Dio. È un quadrato. Poi dopo ne riesce perché non vuole vincere codardamente per Cantout. Infatti prende l'agente del volto del ring. E qua inizia a colpirlo. No signori. Qua reagisce l'agente. Non ci credo. Non ci credo l'agente. Penetre World Fisher lo scaraventa vicino alla rampa. E poi dopo. Mio Dio. È il World Drop da parte dell'agente nel volto del ring. Che adesso. Penetre World Fisher. Lo rimette in piedi. Mamma mia ragazzi. E qua. La rissa prosegue a oltranza. Adesso però reagisce Fisher. Reagisce Fisher. Che scalaventa. Nella zona del bordo ring. L'agente numero due. Poi dopo lo prende. Lo riporta sul quadrato. E qua signori. Si prosegue a oltranza. Trevor Fisher. Tornato sul ring. Prende l'agente. Cosa fa? No 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 no. Mamma mia ragazzi. Oh mio Dio. Brain Buster. Brain Buster. Brain Buster. Brain Buster. Brain Buster. Adesso qui. Attende al barco l'agente. Eh sì ragazzi. Questo è il momento. Di purgarlo. E qua c'è la finisher. Di Trevor Fisher. Che vince. Uno. Due. No. La gente si rialza. Mamma mia signori. Oh mio Dio. Trevor Fisher. Ancora non riesce a ottenere la vittoria. Adesso non te mordi. Rimetti bene la gente. Che però. Oh mio Dio. Lo scalaventa lì all'angolo. Oh mio Dio. Ancora la gente. Prende Fisher. Oh mio Dio. Che ginocchiata. Trevor Fisher intanto. È lì. Stanco. La gente cosa fa? No 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 ragazzi. Prende una sedia. Entra sul quadrato. Adesso si avventa. Attenzione. No. No. L'arbitro gli toglie la sedia. L'arbitro gli toglie la sedia. E qui Trevor Fisher ne approfitta. Sì sì. Trevor Fisher lo vuole sollevare. Sì sì sì. No. No. Ginocchiata della gente che adesso prende il membro della confraternita. E lo scaraventa al tappeto. Fisher però si rifugia. All'essono del quadrato. Mamma mia ragazzi. E qui. Larissa prosegue oltranza. La gente lo attende al varco. E qua signori cosa fa? Lo prende. Se lo ingroppa. No 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 ragazzi. Oh mio Dio. Powerbomb. Powerbomb. All'essono del quadrato. Ancora la gente. Prende Trevor Fisher. Ancora un'altra. No no no. Basta. Basta. Oh mio Dio. Ancora. Mamma mia ragazzi. Un'altra Powerbomb. Basta. Mio Dio. Ma la gente sta infierendo. In un modo allucinante sul membro della confraternita. Adesso poi lo prende. Lo riporta sul quadrato. Trevor Fisher. Però si rialza. Non ci credo. Prende la gente. Oh mio Dio. Manovra spessa a schiena. Manovra spessa a schiena. Dai. Fisher è carico. Lo rimette in piedi. Adesso lo colpisce. Sì. Sì. No signori. Qui ricontrattacca la gente. No. Ricontrattacca Trevor Fisher. Mamma mia ragazzi. Adesso ancora Fisher. Mio Dio. Che DDT. Ai danni della gente. Almeno la confraternita. Rimette in piedi la gente. Due. E poi continua a colpirlo. No signori. La gente due colpisce Fisher. Poi dopo lo prende. Oh mio Dio. Lo scalaventa di peso all'angolo. Poi dopo lo prende. Attenzione. E qua signori. Mio Dio. Manovra. Spezza collo devastante. Ancora la gente due. Si avventa su Trevor Fisher. Con questa si ripugni. Sulla faccia. Mamma mia signori. E qui adesso la gente due. Dai. 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 Deve provare a chiudere. Sì. 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 Oh mio Dio. Rassian Legsuit. Devastante. E adesso. Guardatelo. Dice di volerla fare finita. E infatti. Adesso. Pene Trevor Fisher. Lo rimette in piedi. Eh sì ragazzi. Eh sì. Dai. Se lo ingroppa. E qua di nuovo c'è la sua powerbomb. Basta. Basta. Basta veramente. Uno. Due. No. Ancora Trevor Fisher. Oh mio Dio. Ancora Trevor Fisher. Ma basta. Ancora si rialza. Oh mio Dio. La gente. Lo rimette in piedi. Puntiamo a colpirlo. No signori. Trevor Fisher. Ricontraattacca. No. Ricontraattacca. Ancora la gente. Non ricontraattacca Trevor Fisher. Dai. Dai. No. Ricontraattacca la gente. Mamma mia ragazzi. No. Ricontraattacca Trevor Fisher. Che ancora. Puntiamo a colpire la gente. Del volto del ring. Ancora Fisher. Dai che l'omena. Dai che l'omena. Rassian Legsweep. Rassian Legsweep. Ancora Fisher. Lo prende. Lo rimette in piedi. Ancora. Continua a colpirlo. Ancora Fisher. Prende la gente. Attenzione. Cosa vuole fare? Manovra cataputa. Mio Dio. Sulla prima corda. Mamma mia ragazzi. Adesso però. Fisher. Deve assolutamente chiudere. Sì. No. No. Ancora la gente. Che contraattacca. Prende Fisher. Lo scaraventa sulle corde. Mamma mia. Che braccio teso. Ancora la gente del volto del ring. Prende Fisher. Oh mio Dio. Lo sbatte. All'angolo. Paurosamente. Che dopo. Esce all'esterno. Ruga sotto al ring. No. No. Basta ragazzi. Basta. Prende un candlestick. Lo porta sul quadrato. Lo getta al tappeto. Ma che fa? No. Qua vuole riempire il quadrato di oggetti. Adesso poi prende la sedia. Torna sul quadrato. Attenzione. Attende al varco Trevor Fisher. No. Arriva l'arbitro che gliela toglie. Arriva l'arbitro che gliela toglie. E qua signori Fisher lo colpisce. No ragazzi. La gente li contraattacca. No. E continua Trevor Fisher. Mamma mia ragazzi. Ancora Fisher. Continua a colpire la gente. La gente li tramotito all'angolo. Fisher. Mi approfitta. Attenzione. Tornato. Di ditti. Mamma mia. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Ancora Fisher. Riempiti in piedi la gente. E ancora continua a colpirlo. Mamma mia signori. Senza sorsa. Il membro della confraternita. Che adesso prende la gente. Lo rimetti in piedi. E ancora Fisher. No signori. La gente contraattacca. No. No. No ragazzi. E ancora powerbomb. Ancora powerbomb della gente. Che prende Fisher. Mio Dio. Lo scalaventa al tappeto. E poi no. E' rimasto ancora il candlestick. Non ci credo. Non ci credo. La gente. E' infuriato. Oh mio Dio. L'arbitro è KO. E la gente. Continua a colpire Trevor Fisher. Mio Dio. Ma che vergogna. Mamma mia ragazzi. Oh mio Dio. Trevor Fisher vince per squalifica. Ma la gente ha fatto un casino totale. Oh mio Dio. E adesso amici ci colleghiamo nuovamente col backstage perché avremo le dichiarazioni molto importanti della campionessa femminile della ringovolto ovvero Rose Violet che fra due episodi a Perfect Storm dovrà difendere il suo titolo dall'assalto dell'ex campionessa Marika. Fra due episodi a Perfect Storm dovrò difendere il mio titolo dall'assalto dell'ex campionessa Marika. In teoria Marika avrebbe già dovuto avere la sua chance di rivincita ad Hunting Ground in un Triple Red contro me Sara Sepp. Purtroppo quest'ultima l'ha attaccata brutalmente prima dell'incontro che è diventato poi un uno contro uno dove io ho vinto e conservato con successo il titolo sconfiggendo Sara Sepp. Poi nello scorso episodio Marika ha sconfitto Sara e ha ottenuto la possibilità finalmente di avere la sua rivincita contro di me a Perfect Storm in un uno contro uno. e devo dire che sono contenta perché Marika rappresenta il meglio della divisione femminile dal ringovolto. Lei è una delle migliori senza dubbio però non è la migliore perché la migliore sono io che sono la campionessa e sono un gradino sopra di lei. Tu Marika sei sotto di me. Io sono al primo posto. Tu sei solo al secondo. E sappi che dopo Perfect Storm sarò io a rimanere in cima con la mia cintura e tu rimarrai sempre lì un gradino sotto di me. Tu sei bravissima. Tu sei fortissima. Sei talentuosa. Hai tutte le capacità per sfondare in questa disciplina. Ma tu non sei forte quanto me. Tu non mi puoi battere. Non hai le carte in regola. Tu puoi disputare senz'altro un ultimo match contro di me ma non puoi battermi. Tienilo a mente. Tienilo a mente. Perché a Perfect Storm io ti batterò, ti schiaccerò e andrò avanti col mio regno. Inizio è il tempo di passare al prossimo incontro. JB 04 in azione contro Wolf Green. Vi ricordo che nello scorso episodio JB 04 al termine del suo incontro è stato attaccato brutalmente dall'alleato di Wolf Green, ovvero Twin Demon. E infatti adesso JB affronterà proprio Wolf Green, alleato di Twin Demon. Il demone si presenterà anche oggi? Chi lo sa, staremo a vedere. Una cosa è certa. L'atleta demoniaco ha preso di mira l'ex super campione hardcore della Ringo Volto. Eccoci qua andiamo in diretta amici. Il seguente incontro è un uno contro uno. E il primo atleta a fare il suo ingresso è JB 04. Allora voglio! Allora voglio! Il suo avversario Evolve Green Il suo avversario E dunque amici si può partire JB04 contro Wolf Green Si parte l'arbitro Inizia al match Mamma mia ragazzi Wolf Green parte subito Carico a mille Contro l'ex campione a corda Ringo Volto Lo manda al tappeto Ancora Green Lo rimette in piedi A tensione Oh mio Dio Guardate come lo solleva E poi lo scalaventa al tappeto Mamma mia che manovra devastante Adesso Green va per lo schienamento Niente da fare Colpo di reni da parte di JB04 Ancora Green Lo rimette in piedi No signori niente da fare Contra attacca JB04 E adesso Lo manda al tappeto Con Rassian Legswip E adesso E lui a provare lo schienamento Uno No Niente da fare Colpo di reni da parte di Wolf Green Allora JB adesso Lo colpisce con un calcione Dritto sulla schiena Ancora JB Uh no niente da fare signori Contra attacco Da parte di Wolf Green Che adesso prende JB Attenzione lo so Le va bene Un calculex Mamma mia ragazzi Prosegue Incessante L'azione di Wolf Green Che adesso Uh stompizza JB04 sullo stomaco Ancora Green Rimette in piedi Attenzione Non ci credo Schiacciata Uragano Schiacciata Uragano E qua Green Vuole provare a chiudere Attenzione C'è lo schienamento Uno Due No No JB04 Si rialza JB04 Si rialza Ancora Green Lo rimette in piedi Attenzione Prova a chiudere No signori JB04 reagisce Si si Sgambetto Sgambetto Adesso qua C'è la sua manovra speciale Lì vuole troncare il collo Si si JB04 Lo colpisce Ma che succede? No Basta Ancora Non è possibile Twin Demon Si presenta sullo stage Per ristrarre JB04 Non ci credo E lì in acquato Infatti C'è Wolf Green Che prende JB E qua lo volebbe fare Uno No Niente da fare JB si rialza Clamoroso Adesso Wolf Green Lo prende Lo rimette in piedi Prova a colpirlo No JB lo evita Signori Ancora JB04 Che continua a colpire Green Che per adesso Contraattacca Adesso è lui che colpisce JB Ancora No signori JB04 colpisce Wolf Green E poi dopo Dal nulla Tira Corri La sua finisher Incredibile Sotto lo sguardo di Twin Demon JB04 Va a vincere Clamoroso Clamoroso JB04 Non si è fatto Sopraffare Dalla presenza Demonica Di Twin Demon Ed è riuscito Ad agguantare La vittoria Mamma mia ragazzi Grande coraggio Grande tenacia Da parte Di JB04 Che vince Contro Wolf Green E dunque Staremo a vedere Come proseguirà La faida Tra lui E Twin Demon Ed eccolo qua JB04 Che può esultare Twin Demon Mi sa proprio Che non avrà niente Di cui festeggiare Eh 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 sì Eh JB04 Non si è fatto Fregare Ragazzi Non si è fatto Fregare E adesso amici Torniamo nel backstage Perché dopo quanto Avvenuto prima Nel corso della serata Abbiamo Il campione mondiale Dei pesi Massimi Dena In collegamento Perché avrà qualcosa Di importante Da comunicare A G. Reynolds In vista Del loro Grande Scontro Epocale Che avverrà Fra due episodi A Perfect Storm G. Reynolds Io e te Fra due episodi A Perfect Storm Ci affronteremo Con in palio Il mio titolo mondiale Dei pesi massimi Della Ringo Volto Questo match È forse Il più atteso In tutta la storia Di questa federazione E senz'altro Sarà il match Più bello Che la Ringo Volto Abbiamo mai Visto Nello scorso episodio Tu hai fatto Dichiarazioni Molto forti E molto Importanti Nei miei confronti In più Hai minacciato Che ti saresti Presentato Nel main event Per picchiarmi E così è stato Io e te Al termine del mio match Contro De Lucia d'Or Ci siamo pestati Senza sosta Tanti botte risposta E poi Alla fine Sei riuscito A prevalere su di me Mi hai messo KO Al centro del ring In più Prima Nel corso Di questa serata Mi hai messo Nuovamente KO Quando ci siamo Pestati Selvaggiamente Nel backstage Caro G Reynolds Tu hai vinto Queste piccole battaglie Ma la guerra Non l'hai ancora vinta La guerra Sarà Perfect Storm Tu puoi mettermi KO E picchiarmi Tutte le volte Che vuoi Nel corso Di questi episodi Ma non hai vinto La guerra Perché la guerra Vera È quando noi due Ci affronteremo Con in palio Il mio Titolo mondiale Dei pesi massimi Dal ringo volto Sarà lì Che dovrai dimostrare Di riuscire A mettermi KO definitivamente Per straparmi La cintura Tu sei andato A dire A più riprese Che nessun atleta È mai riuscito A sopravvivere Alla tua G5 Tu sei Imbattuto Non hai mai perso E tutte le volte Che hai messo a segno La tua G5 Nessuno È mai uscito fuori Dallo schienamento Sappi Che io Sarò il primo Ad uscire Dallo schienamento Dopo aver subito La tua G5 Puoi farmene anche I dieci di fila Non me ne frega niente Io Quando sarà il momento Di uscire fuori Dallo schienamento Dopo la G5 Sappi Che sarò pronto A farlo Sarò io Il primo A uscirne fuori Sarò io Il primo A infliggerti La sconfitta Tu perderai La tua striscia D'imbattibilità Tu Non puoi Battermi Io Ho subito Tante angherie Nel corso di questa carriera E sono riuscito A sopravvivere A tante situazioni Difficili E sappi Che riuscirò A farlo Anche con te Perciò Preparati Preparati Molto bene Perché io Sono Dena Io sono colui Che ha sconfitto Una creatura Sacra Come Suboi Io Sono il campione Mondiale dei pesi massimi La ringovolta E sono il campione Più forte Che questa federazione Abbia mai Visto E dato che tu Mi hai minacciato Nello scorso episodio Nello scorso episodio Adesso lo faccio anche io Perché so che tu Nel main event Dovrai combattere Perciò Preparati Perché anche io Farò come tu Hai fatto Nello scorso episodio Anche io Mi presenterò Nel corso del main event E vedrai Che ti coglierò La sprovvista Sarò io A metterti K.O. Mi hai capito? Aspettati Una mia Incursione Perché non vedo L'ora Di prenderti A botte E adesso amici È tempo di passare Al prossimo incontro Ci spostiamo Sulla questione Riguardante i titoli Tag team Della Ring of Volt Come già sappiamo A Perfect Storm Il public enemy Rappresentato da Joey Knox E Johnny Knox Affronterà I Predators Ovvero Scorpio E Jason White Per i titoli Di coppia E oggi Avremo Un piccolo Succoso Antipasto Di questa contesa Perché avremo In azione In un uno contro uno Johnny Knox Per il public enemy Contro Scorpio In rappresentanza Dei Predators In più Joey Knox È stato bandito Da Border Ring Per il public enemy E Jason White È stato bandito Da Border Ring Per quanto riguarda I Predators Sarà un uno contro uno Pulito Che vinca Il migliore Eccoci qua Di nuovo in diretta Amici Il seguente incontro È un uno contro uno E il primo atleta A fare il suo ingresso In rappresentanza Del public enemy Lui È Johnny Grinox Un Goodness E' il suo avversario in rappresentanza dei Predators, lui è uno dei campioni di coppia della Ringovolto, lui è Scorpion Grazie a tutti E dunque ci siamo, si può partire, Johnny Knox contro Scorpion L'arbitro inizia il match, Johnny Knox si avventa subito come una furia su Scorpion Mamma mia adesso però il campioni di coppia contraattacca Adesso prende Johnny, attenzione se lo vuole inzainare, qua lo vuole Soller E' un mio dio che suplex di pregevole fattura Ancora il componenti di Predators sbatte il braccio di Johnny al tappeto Ancora Scorpion, attenzione, prova una presa di sottomissione al collo Vuole far cedere Johnny che però in qualche modo, attenzione, prova la forza di rialzarsi E adesso lo colpisce con queste gomitate sullo stomaco Ancora Johnny, mamma mia, calcione con il quale mette al tappeto Scorpion Poi dopo, attenzione, risciddi Scorpion all'angolo E colpisce Johnny Knox con un braccio pezzo Poi dopo lo mette seduto Adesso Scorpion sale sulla seconda corda Carica il pugno in caduta Mamma mia ragazzi, che impatto E adesso qui Scorpion passa lo schienamento Uno, niente da fare Johnny Knox si rialza Ancora Scorpion, prende Johnny, lo rimette in piedi Poi dopo ancora lo scalaventa all'angolo Johnny stavolta cade estremato al tappeto Ancora Scorpion, oh mio Dio Neckbreaker in rincorsa Ancora il campione di coppia Uh, prende Johnny, oh mio Dio DDT DDT precisa Come un compasso Mamma mia Adesso poi Scorpion mette seduto Johnny Adesso prova lo schienamento Uno, niente da fare Ancora Johnny si rialza Mamma mia signori Scorpion si mette le mani in testa Forse sperava in un conto di tre Ma niente da fare Adesso i due iniziano con questi botte risposta Ripetuti Guardateli Mamma mia che match super equilibrato Adesso qui Scorpion colpisce ad una gamba Johnny Poi dopo lo prende per un braccio No signori Il componente del pubblico enemy reagisce Ma qui reagisce Scorpion No, reagisce Johnny Con questo calcione Guardate ancora Johnny Mio Dio Scende Scorpion Dai, dai Ancora Johnny Colpisce Il campione di coppia Poi dopo per andare in coppia Forza mio Dio Big Boot E lo butta all'esterno del quadrato Adesso Johnny Vuole commettere una follia Si lancia Oh mio Dio Davo il futu stompo Porca miseria All'esterno del quadrato Mamma mia Poi dopo Prende Scorpion Mio Dio E lo scaraventa Lungo la rampa Mamma mia Che violenza inaudita Da parte di Johnny In difficoltà Non ci credo Ancora si Scorpion Oh mio Dio E qua per Johnny Knox Non c'è niente da fare Uno Due Nooo Johnny Knox si rialza Ma stiamo scherzando Ha resistito Abbendo finisce Oh mio Dio Qua Scorpion Lo prende Lo li mette in piedi No signori Qua contraattacca Guardate Johnny Knox Che però Cosa fa Nooo Nooo Attenzione Qui Scorpion Lo indebolisce ad una gamba E qui ancora continua A riferire Oh mio Dio Ragazzi Oh mio Dio Johnny Knox In palesi difficoltà Scorpion adesso Ne può approfittare Lo prende Lo rimette in piedi Attenzione Prova una presa Nooo E qua c'è Johnny Knox Che reagisce Nooo Ancora Scorpion Che li contraattacca Nooo Ancora Johnny Knox Che adesso Ancora Subisce la reazione Da parte di Scorpion Che adesso lo prende Attenzione Neckbreaker Oh mio Dio Qui Scorpion Ha letteralmente In mano il match E adesso Prende Johnny Mamma mia Belli tu belli Suplex Devastante Ancora I campioni di coppia Continua a colpire Johnny Che però adesso Signori Passa al contraattacco Poi dopo Uh Calcione sulla testa Di Scorpion E qui adesso Johnny si sta caricando Signori Eh sì Qua il componente Del pubblico E ne mi si carica E qui adesso Guardate Mio Dio Che cancione Alla testa di Scorpion Johnny Knox Però sembra Non volersi accontentare Infatti Rimetti in piedi Scorpion E qua signori E' finita E' finita C'è la sua finisher Guardate Mamma mia ragazzi Lo ha tramortito Ed è finita Uno Due Nooo Scorpion si rialza Ma come? Ma come? Scorpion si rialza Oh mio Dio Oh mio Dio Johnny Knox Non sa più che cosa fare Oh mio Dio Adesso poi lo prende Lo rimette in piedi Lo scaraventa all'angolo In corsa di John Mio Dio Che for arm Ancora il componente Il pubblicano Non demorde Sale sul paletto E qua signori Double foot Stomp No No Scorpion lo evita Scorpion lo evita Si avventa su di lui Con questa Si ripuni in faccia Mamma mia signori Ancora Scorpion Si Prende Johnny E qua signori C'è la Diti a compasso Mamma mia ragazzi Scorpion però non demorde Non demorde E qui ancora La sua death drop Mamma mia Ragazzi Che incontro spettacolare Scorpion No Neancora Abbastanza E qui ancora E ancora Un'altra Death drop E qua è davvero finita Uno Due Tre Scorpion Sconfige Johnny Knox Al termine di un incontro Spettacolare E vi ricordo che tra due episodi A perfect storm Johnny Knox E Johnny Knox Dovranno Affrontare Scorpion Jason White Per i titoli Di coppia Della Ringo Volta Public Enemy Contro Predators Vedete che lo fa Scorpion che può esultare Mamma mia signori Che match Spettacolare Grande vittoria Con i campioni di coppia Adesso amici Dopo quanto avvenuto prima Fra JB04 Wolf Green E Twin Demon Ci colleghiamo Con il backstage Perché JB04 Ha delle dichiarazioni Molto Importanti Da fare Twin Demon Evidentemente Dopo che hai vinto La rivalità Contro Mattia Tu hai messo Il mirino Su di me Io sono un ex campione Hardcore Io sono stato Il miglior campione Hardcore Che la Ringo Volto Abbia mai visto Ho disputato Dei match Strepitosi E ancora Ne sto disputando Altrettanto Strepitosi E in futuro Farò Altrettanto Continuando A vincere Tanti Tantissimi Altri titoli Ma tu in questo momento Ti stai parando Davanti Alla mia strada Tu ti stai mettendo In mezzo alle scatole E mi stai prendendo Di mira Nello scorso episodio Tu Mi hai Attaccato Brutalmente Al termine Del mio incontro E mi hai messo KO Stasera Io ho affrontato Wolf Green E tu Ti sei messo Di nuovo In mezzo alle scatole Cercando di farmi perdere Ma stavolta Ti è andata male Perché Wolf Green È stato messo KO Fino al conto di tre Io Caro Twin Demon Ti voglio affrontare In uno contro uno A Perfect Storm Sappi che io A differenza di quanto Avvenuto con Mattia Sono in grado Di batterti Mi hai capito? Io Ti batterò A Perfect Storm Fra due episodi Però Non voglio che Wolf Green Sia in mezzo alle scatole Infatti Prima Ho parlato Con il volto del ring E abbiamo raggiunto Un accordo Nel prossimo episodio Affronterò nuovamente Wolf Green E se Contendere al titolo Al titolo hardcore Del ringo volto Del 6-20 John Murphy Contro Rice Muta Match di preparazione Per John Murphy In vista del suo Grandissimo scontro Che avverrà Fra due episodi A Perfect Storm Contro il leader Di Predator Nonché il campione Hardcore Mech Eccoci qua Di nuovo in diretta Amici Il seguente incontro È un 1-1 E' il primo atleta A fare il suo Ingresso E' il number one Contendere al titolo Hardcore Del ringo volto Lui Ed è Seventin John Murphy Ma Che succede? Ma chi c'è nella penombra? No Ma non ci credo Ma lui è Mech È il leader Dei Predator Sarmato di sedia Ma che fa? Segue John Murphy Da dietro E lo attacca Brutalmente Signori Oh mio Dio Mech Colpisce Ripetutamente John Murphy Oh mio Dio Lo ha messo K.O Intanto amici Dobbiamo correre 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 Nel backstage Ancora c'è una rissa Oh mio Dio Oggi È giornata di rissa E colleghiamoci col backstage Subito Immediatamente Oh mio Dio Ma qui siamo nella sala Delle merendine E del caffè Mamma mia ragazzi Dei King Mike Masters E Alessio Se le stanno dando Di santa ragione Mamma mia La loro rivalità Sembra non avere mai termine E ancora i due Continuano a darseli Di santa ragione Adesso Alessio A condurre il gioco No signori Qua c'è Mike Masters Che contraattacca No Ancora Alessio Che li contraattacca Ancora dei King Mike Masters Mamma mia Azione Senza sosta Adesso Mike Prende Alessio Oh mio Dio Lo manda al trappeto Con un body slam Poi dopo Mike Prende un bidone Della spazzatura E colpisce Mister Cash Poi dopo No Prende un mobile Ma che sta facendo Mike Alessio si sta rialzando Oh mio Dio E Mike Lo mette K O Oh mio Dio Alessio Tu mi hai veramente Sufato Hai capito Mi hai rotto le palle La devi smettere Di continuare Ad imbrogliare A destra e sinistra Io voglio Il tuo titolo televisivo Ma tu stai facendo di tutto Per continuare a conservarlo In ogni modo Con ogni mezzo E lo stai facendo Nel modo più schifoso E vergognoso possibile Prima Ti fai contare fuori Poi La settimana dopo Quando dovevamo fare la rivincita Scappi via in limousine Dopo avermi attaccato Vigliacamente Nei parcheggi Poi Successivamente Nell'altra rivincita Ti fai squalificare Nell'altra rivincita ancora Mi fai contare fuori E codardamente Tenetoni sul quadrato Come un codardo Hai finito di giocare? Hai finito? Vogliamo lottare seriamente? Vogliamo fare un match serio? Con un inizio e una fine coerente? E fatta bene? Vogliamo fare un match degno di questo titolo? Tu la devi finire Mi hai capito Io prima sono stato nell'ufficio del volto del ring E abbiamo raggiunto un accordo Tu Nonostante abbia soldi Per corrompere chiunque Anche il volto del ring Che ama Farsi tanto corrompere Si è rotto le scatole Del tuo atteggiamento Si perché questa cosa Non fa fare di certo Una bella figura All'azienda Questo è un danno di immagine Che stai arreccando a lui E a tutta La ringovolto Ma soprattutto Al titolo televisivo La ringovolto Perciò Il volto del ring Ha sancito Una rivincita Definitiva Fra di noi Fra due episodi A perfect storm Il match sarà un uno contro uno E qualora tu Dovessi farti Squalificare di proposito O dovessi farti Contare fuori di proposito Sappi Che perderai Il titolo Televisivo Perciò Non ti resta che fare Una sola cosa Provare a battermi In modo pulito Sempre se ci riuscirai Ma sapi che questa cosa Ti sarà impossibile Perché io Sono un ex campione hardcore Ed un ex campione di coppia Io Sono The King Mike Masters Perciò Al termine del nostro match Di perfect storm Non dovrai far altro Che inchinarti Davanti al re Nonché Al nuovo Campione Televisivo La ringovolto The King Mike Masters Ci hanno umiliati Ci hanno presi A calci nel sedere Ci hanno presi A sberle Ci hanno derisi Ci hanno dato dei falliti Nessuno Crede più in noi Tutti quanti Pensano che siamo Dei perdenti Ma tutti quanti Si stanno sbagliando Di grosso Noi ci siamo allenati Ci abbiamo dato dentro Con tutte le forze E le motivazioni Necessarie Noi Siamo pronti A compiere Un'autentica Un'autentica Rivoluzione Noi siamo pronti A tornare Per redimerci E riprenderci Tutto quanto E state certi Che quando torneremo Non ci deriderete più E non ci Prenderete più A botte Perché saremo Noi A prendere A botte Tutti quanti E ci prenderemo Le luci Della ribalta Stiamo arrivando Preparatevi E adesso amici È tempo di passare Al prossimo incontro Tag Team Match Da una parte Abbiamo il Luce Express Rappresentato da Carlos Garcia E Depp Accompagnati da De Luce Ador Dall'altra Abbiamo gli scagnozzi Di Alessio Ovvero Zoom E John Wick Che oggi Sono senza Il loro capo Senza il campione televisivo Mister Cash Alessio Che proprio poco fa È stato attaccato Brutalmente Nell'area Merendine e caffè Da The King Mike Masters Staremo a vedere Inoltre Se il Luce Express Riuscirà A reagire A riprendersi Dopo il trend Ultra negativo Delle ultime settimane Il Luce Express Non vince Da tanto Tantissimo Troppo Tempo Devono Assolutamente Dare un bello Scossone Alla stable E devono Assolutamente Tornare Alla vittoria Se non vogliono Continuare A proseguire Con questo trend Negativo Che li continuerà A trascinare Nell'oblio Più Totale Eccoci qua Di nuovo In diretta Amici I seguenti incontri Unità Il team Match E il primo team A fare il suo ingresso E accompagnato Da The Luce Di rappresentanza Del Luce Express Abbiamo Carlos Garcia E De DiCaprio 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 I loro avversari Sono John Wick e Zoom I loro avversari I loro avversari E dunque direi che si può partire Inizieranno Carlos Garcia E Zoom Ci siamo L'arbitro inizia al match Mio Dio Carlos Garcia Parti subito alla carica E si signori perché Lucia Express Deve invertire il trend Deve tornare al più presto alla vittoria Adesso Zoom però Contraattacca lo scaraventa sull'epron No signori Carlos Garcia Contraattacca Mamma mia signori Si lancia in springboard L'atleta mascherato Che adesso propone di sweep No riversata la Zoom Che prova un big boot Ma qui ancora Garcia All'arrembaggio Mamma mia signori Che partenza folgorante Per il Lucia Express Ancora Zoom Che contraattacca su Garcia Poi dopo Uh lo scaraventa Violentemente Sul quadrato E adesso c'è il cambio Per John Wick Che fa Il suo ingresso nel match Adesso Attende al varco Carlos Garcia Poi dopo lo vuole sollevare Mio Dio Back suplex Devastante Ancora John Wick Che continua Ad inferire pesantemente Sul componente De Lucia Express Adesso Esegue un German suplex Mamma mia Bello tosto Ancora Wick Prova un belly to belly No signori Qui c'è Carlos Garcia Che contraattacca Lo colpisce duramente Poi dopo No John Wick Mamma mia Lo schianta al tappeto C'è anche lo schienamento No Carlos Garcia Si rialza Mamma mia Grande resistenza Da parte dell'atleta Mascherato Che adesso Riesce a rimaltare la situazione Attenzione Manda su Lepron John Wick Poi dopo lo colpisce Attenzione Lo raggiunge lì su Lepron E adesso Mamma mia C'è un rex suplex Sull Lepron Oh mio Dio Grande Carlos Garcia Che adesso Per John Wick Lo riporta sul quadrato Adesso Carlos Da Lepron Si lancia Oh Dio In springboard Che tuffo Fenomenale Adesso Carlos Prova lo schienamento Uh Niente da fare John Wick Si rialza Come se non la fosse Al punto di zero Allora Garcia Prova un calcione No Wick Li pia un male sparo Bex suplex Dello scagnozzo di Alessio Che adesso Prende Carlos Garcia Lo rimette in piedi Poi adesso lo prende Lo manda al suo angolino E qua c'è di nuovo Il cambio per Zoom Torna nel match Adesso agisce in collaborazione Con John Wick Che colpisce al braccio Carlos Garcia Poi dopo Attenzione Lo afferra Oh mio Dio Per la cola E lo schianta al tappeto Mamma mia Che manovra Da parte di Zoom Che adesso Mette in piedi Carlos Garcia E qua adesso Inizia a colpirlo Ripetitamente Mamma mia Zoom Inferucito Prende Garcia Oh mio Dio Che vertical Suplex Fenomenale Ancora lo scagnozzo Di Alessio Datelo Presa Col ginocchio Sulla testa Di Carlos Garcia Mamma mia Alessio applica Una presa Sulla spalla Ancora Zoom Che continua Ad inferire Mamma mia Mio Dio Intanto Depp E lì all'angolo Che spera Di ricevere un cambio Zoom Alessio Prende Garcia Mio Dio E mette a segno La sua feature No È già finita Non ci credo Dai Uno Due No Arriva Depp A salvare Carlos Garcia Incredibile Adesso Zoom Lo prende Lo rimette in piedi No signori Carlos Garcia Contraattacca Prova a colpire Zoom Che però Dall'Epon Lo colpisce in faccia Ancora Zoom Prova a sollevare Garcia Che però Guardatelo Fa opposizione Fa opposizione Sì signori Colpisce Zoom Adesso lo prende Lo manda al suo angolo E sì ragazzi Dai finalmente C'è il cambio per Depp Adesso Carlos Garcia E Depp Agiscono in collaborazione Mamma mia Signori Mamma mia Adesso Depp Sale sul paletto E si lancia Sì Dai Dai ragazzi Dai La riscossa De Lucia Express Depp Dalle Prod Mamma mia Signori Che manov Fenomenale Ancora Depp Prende Zoom Attenzione No Zoom Contraattacca E lo colpisce Poi dopo lo prende Lo scalaventa Nella zona dell'Epron Ancora Zoom No Signori Ancora Depp Mamma mia Mamma mia Signori Che match Sta uscendo fuori Depp Rimete In via Zoom E seguri Kick Dai ragazzi C'è lo spettacolo Assicurato Targato Lucia Express E se finisce Vai Mamma mia Signori Adesso Depp Ci crede Prende Zoom Ancora Sì Sì Che manovra Adesso Depp Va da Joey Gli tira una pizza in faccia Lo butta fuori Adesso prende Zoom Sì Sì ragazzi Sì Dai Dai Sì La redenzione E Lucia Express È finita Uno Due No 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 Zoom Si rialza Zoom Si rialza Allora Depp Non demorde Dice No Bello Attenzione Però No Spinning kick Va vuoto Zoom Va allo schienamento Uno No Niente da fare Depp Con coraggio Si rialza Dai Dai Forza Lucia Express Ragazzi Adesso Zoom Prende Depp Lo manda sulle corde Dei bot Ma va vuoto Sì signori Sì signori Depp Adesso Bada gli scambi A Carlos Garcia Zoom Lo dà John Wick E qui ragazzi John Wick Sembra me La meglio Sì Prende Carlos Garcia Lo manda al tappeto Ancora Wick Prende Garcia Lo rimette in piedi Lo colpisce No signori Garcia contraattacca No Ricontrattacca John Wick Che adesso Prende Garcia Oh mio Dio Diritti signori Diritti di John Wick Che adesso Prende Oh mio Dio Ancora Colpisce Con una ginocchiata Carlos Garcia Poi dopo cosa fa Lo rimette in piedi Attenzione Lo prende Lo manda all'angolo John Wick Per andare in corsa Mamma mia Che for arm Wick E scatenato E scatenato Adesso rimette in piedi Carlos Che è vero Signori Contrattacca Bene John Wick Lo manda dall'altra parte In corsa Di Garcia No No Va a vuoto Va a vuoto Signori John Wick Lo trafiggio Poi dopo lo prende E mamma mia Super kick Ancora John Wick Rimette in piedi Garcia Lo colpisce E qua c'è la sua finisher Mio Dio ragazzi Adesso John Wick Va da Depp Lo butta fuori dal ring Adesso poi Va da Carlos Garcia E no Ancora Non ci credo Ancora la sua finisher Ancora La sua finisher Schienamento Uno Due E tre signori Non ci credo Zoom e John Wick Vincono Depp E' arrivato all'ultimo Per provare a salvare Carlos Garcia Ma non ce l'ha fatta Prosegue Il trend Ultra negativo De Luce Express Che continua a perdere E intanto Zoom e John Wick Ritornano Sulla cresta dell'onda Dopo un paio Di sconfitte In ultimi episodi Adesso Sono pronti A ripartire Alla grande Con questa Grandissima Vittoria E adesso amici Ci colleghiamo Nuovamente Con il backstage Perché qui Passiamo Alla rivalità Tra Aki Bugiro E Mattia E l'atleta Nipponico Avrà qualcosa Da dire A Mattia Riguardante La sfida Che Mattia Ha lanciato Ad Aki Bugiro Fra due episodi Per Perfect Storm In una resa dei conti Uno contro uno Per chiudere Ogni loro Il sapore Quindi colleghiamoci Con Aki Bugiro Caro Mattia Io ho ascoltato attentamente Le tue parole Che hai detto Nello scorso episodio Contro di me Guarda che io Non sto facendo Lo sbruffone Non sto facendo Il cattivo Della situazione Perché ho sentito In settimana Tante voci Ho letto anche Tanti commenti Contro di me Sui social Tutti quanti Che mi hanno etichettato Come un heel Ma io Non sono un heel Io mi sono Arrabbiato Con te Mattia Io ti ho picchiato Perché per colpa tua Io ho subito La mia prima Sconfitta Da quando sono In ringovolto E l'ho fatto Per colpa Tua Io mi sono Offerto di aiutarti E io mi sono Trovato in questo Pasticcio Per colpa Solo ed esclusivamente Tua Io non sono stato Neanche schienato In quell'incontro È stata un'autentica Ingiustizia E quanto Alla tua sfida Per Perfect Storm Va bene Certamente A voglia Io ti voglio Affrontare Ti voglio battere Ti voglio prendere A calci nel sedere Tu sei solo Uno smidollato Mi hai capito Io mi sono Fatto trascinare Nelle tue Rivalità Stupide E alla fine Ne è andata Di mezzo La mia Imbattibilità In ringovolto Ma sappi Che porrò Rimedio a questa situazione Fra due episodi A Perfect Storm Sarò ben lieto Di affrontarti E di Sconfiggerti E adesso amici Siamo giunti Al nostro Main Event Dove avremo in azione Il number one contender Al titolo mondiale Di PCMast Mid La ringovolto Nonché Il leader Del public enemy G-Reynolds Contro il motociclista Vince Black E attenzione Perché Dena Prima nel corso Della serata Dopo la zuffa Che c'è stata Con G-Reynolds Ha minacciato Il number one contender Di presentarsi Nel corso Del main event E di prenderlo A botte Proprio come ha fatto G-Reynolds Nello scorso episodio Staremo a vedere Cosa accadrà Eccoci qua Ognuno in diretta Amici Siamo giunti Al nostro Main Event Il seguente incontro E un Uno contro uno E il primo atleta A fare il suo Ingresso E il Motociclista Vince Black Ed eccolo qua L'ex Scazzone di bocca Da Ringo World Che si presenta Sul ring Con la sua moto Oggi la tende Un incontro davvero Molto Molto Invocato Molto Si Da Ringo La struggled E' il suo avversario E' il number one contender al titolo mondiale dei pesi massimi della Ringo Volto Lui è il leader del Public Enemy Lui è G. Reynolds 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 Ancora il leader del Public Enemy Manda il motociclista sulle corde Poi con questa snap powerslam lo manda al tappeto Ancora G. Reynolds Lui è G. Reynolds Lui è G. Reynolds E' qua Vince Black Prosegue questi attacchi Adesso va per lo schienamento Uno No signori G. Reynolds si rialza Adesso il leader del Public Enemy Guardatelo prova ad avventarsi su Vince Black Che tra adesso contraattacca signori Prende Reynolds Prende Reynolds Prova una DDT No signori Leader del Public Enemy Adesso reagisce Oh mio Dio colpisce Oh mio Dio colpisce Vince Black Con un pugno sotto al mento Ancora G. Reynolds Che continua senza sosta A colpire il motociclista Ancora Oh mio Dio Ma basta Ma questo è un pestaggio Senza precedenti Con questi stompe ripetuti Ancora G. Reynolds Ah ma mia Che big boot E adesso poi ancora Si avventa con questi pugni Su Vince Black Come una furia Mamma mia signori Ancora G. Reynolds Non si ferma più Oh mio Dio Ancora E ancora Senza sosta Adesso Prende Vince Black Lo rimette in piedi Oh mio Dio No 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 Ragazzi Qua è pronto A bobizzarlo Oh mio Dio C'è la power log Power log Di schienamento Uno Due No Che brividi ragazzi Vince Black Si Rialza Allora G. Reynolds Lo rimette in piedi E' pronta ad attaccare ancora Ma qua si dice Contrattacco di Vince Black Che adesso Prende G. Reynolds Oddio che manovra Con la quale lo schianta Al tappeto Oh mio Dio Ancora Black Continua colpire G. Reynolds Prova Attenzione Un sollevamento No Signori leader del pubblico Che ne esegue questa D.D.T. Sensazionale Con la quale manda Al tappeto Il motociclista Ancora Reynolds Lo rimette in piedi Va a continuare a colpirlo Vince adesso E gli ha l'angolo tramortito E qua Reynolds Ne può approfittare ancora E ancora Senza sosta Guardatelo Il motociclista Il motociclista Il motociclista No Ricontrattacca Vince Black Che adesso Tornerebbe In un'attenzione Cosa fa No 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 Attenzione Lo vuole bombizzare Ma che fama impazzito Io lo bombizzo Angolo Oh mio Dio E adesso Vince Black Cosa fa No Non ci credo Vuole fare colpaccio Mio Dio Ma stiamo scherzando C'è Black Stomp Black Stomp Black Stomp E qui Vuole chiudere Uno Due No G Reynolds Dice di no G Reynolds Dice di no E allora Non si ferma Vince Black Lo prende Lo rimette in piedi E ancora Continua a colpirlo No signori E qua G Reynolds Lo evita E qua signori C'è la G5 Oh mio Dio Ne basta Soltanto Una Uno Due Tre Signori Nessuno Può uscire Dalla G5 Nessuno Mamma mia Ragazzi Altro grande successo Per G Reynolds Nessuno Dopo aver subito Una G5 Riesce A uscire Dallo schienamento Nessuno Nessuno Questa signori E' la finisce Più devastante Che ci sia Nella Ringo Volto E quindi Dena E' avvisato Fra due episodi A Perfect Storm Andrà incontro Ad una tempesta Autentica Rappresentata Dalla G5 Di G Reynolds La tempesta Perfetta Ed eccolo qua G Reynolds Che può esultare Grandissima vittoria Per lui Oggi Attenzione però Arriva Dena Arriva il campione L'aveva promesso Lo aveva minacciato Chi sarebbe presentato Su Ring Per prenderlo a botte E infatti Dena Guardate Lo prende G Reynolds Mio Dio E lo manda al tappeto Con un back suplex Ancora Perfetta Power Bomb Power Bomb Di G Reynolds Non ci credo Ragazzi Non ci credo G Reynolds Prende Dena Lo rimette in piedi No ragazzi No ragazzi No La G5 La G5 Dena Ancora una volta Va K.O. Oh mio Dio Gireino Sguardatelo E' carico E' pronto Per Perfect Storm Fra due episodi I due Collideranno Con il titolo mondiale Dei pesi massimi Da Ringovolto In palio E su queste immagini Si chiude questo episodio Stratosferico di Ringovolto Grazie a tutti quanti Per aver partecipato Vi lascio qua stessi Link in descrizione Per seguirmi Su tutti i miei profili Social ufficiali E per seguire anche Tutti i miei partners ufficiali Grazie ancora a tutti quanti Ci vediamo al prossimo episodio Ciao